Ho scelto la Ternana perché due anni fa ho avuto il direttore a Catanzaro, mi ha chiamato, mi ha detto se avevi il piacere di venire di nuovo a lavorare con me, io gli ho dato subito la mia disponibilità per venire qui. Poi la Ternana, sappiamo tutti, è una grande piazza che sicuramente non merita la Serie C, quindi ora sono arrivato qui e sono contento. A proposito di questo, purtroppo c'è stata una retrocessione, immeritata quanto si vuole ma purtroppo è arrivata, quali sono gli ingredienti per ripartire? Sicuramente bisogna creare l'entusiasmo, lavorare e pedalare, queste tre cose per me sono fondamentali, poi vedremo alla fine quello che dirà il campo. Tu sei un centravanti con delle caratteristiche particolari, non ce ne sono molti in giro, della tua struttura fisica ma bravo anche tecnicamente a far salire la squadra, ad aiutare i compagni, giusto? No, hai detto tu e sono anche uno che non molla, c'è lotta su tutti i palloni, se c'è da correre, da menare, sono disposto a fare anche quello, però insomma sono un po' tutto, dai. A proposito di questo, i tifosi si innamorano di calciatori così, no? Che danno tutto in campo, che cosa vuoi dire ai tifosi della Ternana per questa nuova avventura? No, voglio dire solo che sicuramente darò tutto me stesso e spero di ripagare la loro fiducia in campo. Grazie. Grazie. Grazie.